Ciao a tutti, sono Monica Sirelli dal sito www.eft-azione.it e dal canale YouTube EFT-Azione e parliamo oggi delle emozioni negative. Le emozioni negative che si stanno scatenando in questi giorni dalla convivenza, dal fatto di passare del tempo insieme a delle persone, dalla forzatura, dalla preoccupazione per ciò che accadrà quando torneremo alle nostre abituali attività e per anche l'emergere di uno stato emotivo dominante che c'è in ognuno di noi. Ognuno di noi ha un'emozione dominante che può essere la tristezza, la paura, la rabbia, la malinconia, l'ansia e in questi giorni dove siamo molto a contatto con noi stessi e con altre persone, se conviviamo con altri che toccano proprio questi punti, possiamo proprio osservare come dentro di noi si scatenino questi stati, cioè si risveglino questi stati. Allora, quello che noi vogliamo fare oggi è isolare da quello che fa l'altro, ok, ed entrare nell'emozione. Cioè, quindi ascoltiamo quando ho una reazione istintiva a una situazione esterna, non agisco l'emozione, non sposto nell'azione, ma mi osservo, entro nel corpo, entro nel corpo e sento dove è appoggiata, che forma ha, com'è, ha un colore, una forma, un'espressione, un calore, un freddezza, una temperatura, un materiale di cui è composta e osserviamo questa emozione. E come dice Tolle, l'osservazione porta alla dissoluzione, alla trasformazione, perché l'oggetto osservato non può più tenere la sua forma di prima, perché liberiamo la forma, la struttura in cui la nostra energia vitale è ingabbiata, cioè questa emozione disfunzionale. Quindi partiamo dal punto Karate e, ripeti, mi permetto di osservare le emozioni non ancora trasformate presenti nel mio corpo. osservate, respirate, questa emozione e permettete di fare un check, faccio un check del mio corpo e ascolto. Dov'è? Io penso, se penso alla mia, ok, l'ho localizzata e quindi pensate a questa emozione quanto è intensa in questo momento, da 0 a 10 e poi andiamo sopra la testa, questa emozione e dite qual è l'emozione. respiro centro dell'occhio lascio andare l'attaccamento emotivo e la dipendenza emotiva a questa emozione respiro lato dell'occhio. Tutte le persone che ho accusato di questa emozione mi permetto di riprendere il potere, di riprendere l'energia che questa emozione contiene. svuoto l'emozione, svuoto la forma di emozione negativa della mia energia vitale che riporto in me. Respiro sotto l'occhio e osservo cosa accade. tutti i pensieri che la generano. respiro e osservate qual è il pensiero primario che emerge dall'emozione. qual è la cosa a cui resisto che mi crea questa emozione. respiro cosa mi dico che mi crea questa emozione. respiro sotto il naso tutto quello che mi dico. e permettetevi di osservare il pensiero. questa cosa non dovrebbe essere così, questa cosa non dovrebbe essere cos'ha, quella persona non dovrebbe essere così, quella persona non dovrebbe essere cos'ha. osservate questo pensiero e se volete potete fermare l'audio e scriverlo su un foglio e la mia domanda è è vero che questa persona non dovrebbe essere così, che questa cosa non dovrebbe essere così? respiro sotto la bocca posso sapere con assoluta certezza che non è vero, che dovrebbe essere così e ascoltate cosa emerge, sì, no, ma non qui, lasciatelo emergere dall'interno del corpo clavicola tutte le emozioni che provo quando sento questa emozione quando faccio questo pensiero respiro punto del timo ascoltate le emozioni che si risvegliano quando credete che questo pensiero sia vero questa persona non dovrebbe essere questa cosa, questa cosa non dovrebbe essere così respiro tutto lo stress che contiene questa resistenza, questo pensiero sotto l'ascella e osservate chi sarei se non avessi questo pensiero respira questo sotto il seno questo pensiero che mi ha creato sofferenza respirate e osservate com'è il pensiero e non la situazione a creare sofferenza è il pensiero, ditelo proprio è il pensiero che mi crea sofferenza e adesso tabacchiera recupero tutta la mia energia vitale legata a tutti i pensieri che mi creano sofferenza pensieri che ho creduto giusti e che erano pensieri di sofferenza e la riconduco al giusto posto in me respiro gamut facciamo anche la seconda frase di logosintesi allontano tutta l'energia non mia rimasta congelata in questi pensieri di sofferenza e la rimando al vero posto al vero tempo al vero sé a cui realmente appartiene respiro punto delle dita e mi permetto di osservare come questo pensiero non sia reale respiro e vi chiedo proprio di utilizzare questa tecnica per indagare che è la tecnica di Byron Katie The Work vi permette di cominciare a osservare i pensieri poi faremo nei prossimi giorni un video proprio dedicato a questa tecnica cioè all'applicazione di questa tecnica con FT però adesso proprio vorrei che che voi vi focalizzassi sulle prime quattro domande che abbiamo fatto è vero? posso sapere con assoluta certezza che è vero? come mi sento quando credo a questo pensiero? chi sarei se non avessi questo pensiero? quindi buona pratica e naturalmente anche in questi giorni se avete necessità sono disponibile per delle lezioni individuali vi auguro una buona pratica e una buona giornata a presto